bella ragazzi ciao a tutti e bentornati a un video del santone dello svapo oggi vi parlo della hammer of god di wappers cloud box meccanica con quattro batterie collegate in serie parallelo tra loro io l'avevo vista per la prima volta a las vegas a maggio di un anno e mezzo fa ero rimasto colpito purtroppo non l'ho presa in quel momento era la versione precedente a questa mi sono sempre pentito della cosa finalmente ne riesco ad avere una in mano adesso ragazzi questa qui è veramente qualcosa di impressionante ma prima di continuare il discorso l'andiamo a vedere da vicino e poi arriviamo alla prova di svapo e alle considerazioni finali ecco qui ragazzi la scatola della hammer of god finalmente iniziamo subito a vedere cosa ci dice wappers cloud questa qui è una lista di cose da non fare con la hammer of god abbiamo la carta di garanzia la mia è il seriale 0080 qui ragazzi c'è la scatola vapors cloud il simbolo della hammer of god il pallino che indica che il colore è il nero vapors cloud a quest'altra parte black hog v3 andiamo a aprire hog ovviamente l'acronimo di hammer of god qui vediamo la box col tasto il seriale e il logo da quest'altra parte vedete logo hammer of god connettore 510 penso che ho il pin o è ad alluminio e placato argento comunque è a vite e non è autoregolante mod molto semplice non è altro che un quadrato con gli angoli stondati qui purtroppo questo qui ragazzi è colpa mia sono stato io mi è caduto l'altro giorno sono un fenomeno la box vi arriva perfetta e comunque se non vi arriva perfetta per 200 euro andate anche il negozio e vi fate dare quella perfetta tre fori per parte di ventilazione per le batterie andiamo aprire qui sotto e questo qui è l'alloggio per le quattro batterie vedete qui vanno le due batterie col più e qui vanno le due batterie col meno sotto ci sono i contatti adesso io non riesco purtroppo farvi vedere come funziona il meccanismo del tasto eccolo qua come funziona il meccanismo del tasto comunque se come nella versione 2 voi quando spingete c'è semplicemente un pezzo di metallo che va a toccare al centro qui è rientrante perché ci si deve andare ad infilare questo e questo qua che è la chiusura il modello che avevo visto io era ancora più incazzato di questo questo qui è un attimino più cinese con queste cose però funziona non bene di più c'è una spinta che è qualcosa di stratosferico cioè non si può dire niente qui lo vedete questo qui il meccanismo non c'è nemmeno molto da vedere la box è proprio semplicissima più di così si muore io ho preso le mie quattro batterie le ho tutte segnate con a più per ricordarmelo perché sono delle vitici 5a quindi fanno 35 ampere luna ovviamente le batterie le dovete usare sempre accoppiate e io adesso vado a inserire dentro io le batterie me le sono segnate col nero così le metto sempre nelle stesse posizioni qui ho il più ovviamente qua ho il meno una volta che volete chiudere questo qui è indifferente come lo mettete io lo metto di qua e spingete dovete spingere un po perché fa un po di resistenza è molto precisa la tolleranza una volta che avete montato sto discorso la box ragazzi è totalmente pronta a partire andatevi a vedere qui lo schemino che adesso vi metto in sovraimpressione qua che vi dice come funziona il collegamento serie parallelo andatevi a vedere il mio video che si chiama cosa sono i watt capite bene i conti che dovete fare per la legge di home e al che potete usare questa box questa box è totalmente sconsigliata alle persone non esperte se non siete dei va per molto esperti non dovete assolutamente comprare questo prodotto detto questo ragazzi per me è micidiale adesso gli vado a montare un atomizzatore prendo il mio gun io la uso non la spingo tanto a me piace usarla sui 160 watt però usando la 160 watt c'hai la batteria che ti dura ti dura un giorno e mezzo ma no un giorno e mezzo la batteria ti dura tre giorni ok funziona ecco qua ragazzi prossimi giorni non vi preoccupate vedremo anche il video del gun finalmente questa era l'hammer of god da vicino adesso andiamo alla prova di svapo e alle considerazioni finali la box è qualcosa di veramente mostruoso anche perché è estremamente versatile la potete usare sia per una potenza allucinante roba da 600 watt cioè proprio di più con ovviamente atomizzatori opportuni da 40 mm da 30 mm insomma ci vogliono le cose giuste oppure la potete usare come faccio io perché comunque dentro io monto delle sony v15a quindi ho 6.000 mAh di batteria da usare intorno ai 150 watt ma con un'autonomia che ti permette di fare tranquillamente uno o due giorni ok io sono andato a fare l'evento l'altro giorno dalla mattina fino alla sera sono arrivato a casa la in continuazione avevo anche il reo dietro però sono arrivato a casa la sera che le batterie erano 3,7 quindi ma ci ho svapato veramente tanto ci ho fatto 20 ml di liquido con una resistenza da 0,35 quindi l'autonomia è veramente allucinante è una box da non comprare se non siete assolutamente più che esperti cioè qui prendere in mano questa e non saperla usare come dare un ragazzino di 13 anni una macchina da campionato mondiale di rally e dirgli guarda prendi e vai a far la spesa cioè assolutamente questa qui la dovete usare solo ed esclusivamente la dovete comprare solo ed esclusivamente se siete dei va per molto ma molto esperti questa box qui per me era onestamente un sogno anche perché vi dà veramente l'opportunità se sapete fare di poter fare quello che volete di andare veramente delle grandissime potenze chiaro che non ha protezioni non ha mosfet non ha fusibili cioè qui dovete saper veramente guidare la macchina ragazzi è qualcosa di impressionante già le caratteristiche parlano per lei 4 batterie serie parallelo piccolo punto da fare il pin non è autoregolante ovviamente ma c'è una vite quindi la dovete mettere bene ogni tanto dovete ricalibrare un attimo la vite perché potrebbe non attivarsi correttamente però una volta che voi la mettete come si deve non avete assolutamente nessun problema sembra forse un attimo delicato qui il meccanismo del blocco però se voi state attenti lo chiudete bene non lo rovinate non siete dei cani lei di problemi non ve ne dà bisogna trattarla con cura ovviamente detto questo ragazzi non ho altro da aggiungere perché la box i commenti da sola è veramente per me un portento di box una delle mie due box preferite assieme alla flawless questa per capienza di batteria per capacità di batteria la batte perché sono 6000 mAh 70A a 8.4 volt mi raccomando se non siete va per super esperti non fate questo acquisto andate a vedere il video dove spiego cosa sono i watt come si fanno i conti per capire gli ampere gli ohm eccetera sappiate fare bene le resistenze e poi potete iniziare a usare un prodotto di questo tipo quindi ragazzi come al solito vi invito a iscrivervi al canale a condividere il video commentare il video mettere mi piace se il video vi è piaciuto con l'ultima svappata vi saluto e che lo svapo sia con voi ciao ragazzi